Ciao a tutti e benvenuti nel canale, in questo video vi spiegherò come completare le sfide di infliggere danni ed eliminare le fiere se avete acquistato questa skin. Le fiere sono i non morti e dovete eliminarli e danneggiarli nella modalità creativa. Il problema è che se vi fate un giro nella modalità creativa sono tutte modalità pvp, quindi giocatore contro giocatore. Come fare dunque per fare le sfide? Se andate qui dove c'è map area troverete delle mappe pve, quindi potete eliminare i non morti e fare le sfide. Una delle migliori mappe è questa, quindi segnatevi questo codice in alto, dopodiché tornate indietro e interagite con il terminale, quindi mettetevi alla distanza e digitate il codice. Quindi il codice è 9079-1872-7549. Fatto questo accettate, in questo modo attivate l'isola dove c'è quella modalità e non appena il caricamento è ultimato, entrate dentro e fate entrambe le sfide. Sia quella di infliggere danni che quella di eliminare questi non morti o abbietti, insomma. Diciamo che queste sfide sono disponibili solo per coloro che ovviamente hanno acquistato questo bundle. Allora, la sfida in questione, o meglio le sfide, potete farle qui, quindi vi avvicinate e fate partecipa al matchmaking. È indifferente se siete 1, 16 oppure, che ne so, qualsiasi altro numero. Potete farlo anche da soli, quindi se siete soli, probabilmente sarete soli, avete la possibilità di partecipare in questa modalità e fare velocemente le due restanti sfide. In questa modalità dovete raccogliere delle monete per poter acquistare delle armi. Ora, se vi ributta fuori dalla partita, voi entrate di nuovo. E dicevo, in quella modalità, questa, dovete praticamente raccogliere delle monete per acquistare delle armi presso i distributori da utilizzare poi per eliminare i non morti. Non importa se, diciamo, perdete la partita, morite tante volte, perché comunque le uccisioni e i danni vengono sommati, come per le zucche, tra l'altro. Quindi potete avviare la partita fino a quando non avrete completato entrambe le sfide. Quindi utilizzate le armi in dotazione ed eliminate i nemici e fate danno. Se completerete le due sfide, riceverete nuovi stili per questa skin e per il dorso, quindi per la clessidra. Vediamo se questa è la volta buona. Ok, vedete, ci troviamo in un'arena. Quindi dovete raccogliere queste monete. Avete 30 secondi per farlo. E una volta che avete abbastanza monete potete acquistare le armi presso questi distributori. Quindi potete scegliervi le armi che volete, tanto dovete sia eliminare, diciamo, i nemici che fare loro dei danni. Quindi grazie a questa modalità avete la possibilità di completare le due sfide. Vedete, inizia diciamo la partita così, loro sono fermi, quindi nel frattempo potete approfittarne. Io ovviamente le sfide le ho già fatte, ma poi verranno a centinaia e quindi avrete tutti i nemici addosso e potrete fare la sfida in una massimo due partite, se perdete la vita ovviamente. Avete tre tentativi a disposizione, quindi se non ce la fate la prima volta rientrate fino a quando non sbloccherete, diciamo, non completerete entrambe le sfide. Tra poco inizieranno ad attaccarvi. All'inizio non so perché restano fermi, però ad un certo punto verranno contro di voi a centinaia e quindi potrete completare facilmente le due sfide.